Riccardo Colcini, sono un membro del centro Hermes, che è un centro che si occupa di detti digitali, trasparenza, whistleblowing e sono anche un giornalista freelance e scrivo per Marlboro d'Italia principalmente. Oggi vi parlerò delle tecnologie di sorveglianza che il governo italiano, quindi nelle varie forme delle forze dell'ordine, acquista, utilizza e soprattutto cercherò di porre alcuni quesiti dal punto di vista della legittimità dell'utilizzo di questi strumenti. Cominciamo però con questa slide di presentazione. Non so quanti di voi conoscono questo evento. Questa qui è una conferenza mondiale che si tiene in diversi continenti, ISS, che è principalmente dedicata alle tecnologie di sorveglianza per la lawful interception, ossia le intercettazioni legali che vengono svolte dalle forze dell'ordine. Cosa c'è in questo slide? Tra esso si è lead sponsors e quindi gli sponsors di questo evento che sono i più importanti. Troviamo sei aziende, che sono tutte e sei le aziende italiane, note e conosciute al mondo, per le loro tecnologie di sorveglianza che vengono vendute non solo in Italia, ma quindi anche in paesi esteri. Quali sono queste aziende? Abbiamo in basso alcune molto note, come Hacking Team, poi c'è Aria, IPS, sia Aria che IPS erano coinvolti nel documentario di Al Jazeera, in cui dimostravano che esportavano tecnologie di sorveglianza in stati autoritari o comunque non del tutto democratici, utilizzando degli specie di loophole, degli escamotage particolari. Le altre aziende invece sono, ci abbiamo in basso a destra, Cyphergate, questa è un'azienda recente, nata da poco, ma che comunque è riuscita a scalare la sua posizione tra tutte le varie aziende mondiali. Poi abbiamo RCS, un'altra azienda che offre servizi sia per trocia, quindi malware per infettare gli smartphone, che altri sistemi di intercettazione, è lo stesso SIO che si occupa di intercettazioni telefoniche, ambientali e anche un po' di telematiche. La mia domanda però è stata, queste sono le sei aziende più famose che si trovano tra i vari sponsor, e in Italia sono solamente queste o ne abbiamo altre? E soprattutto, cosa compra il governo italiano? Visto che noi sentiamo sempre Stati Uniti, qualunque tipo di livello di sorveglianza immaginabile, Regno Unito allo stesso livello, Germania, idem. E l'Italia, cosa facciamo in Italia? Non parte probabilmente, però ecco, sono questi, si chiamano qui? Cosa ho fatto allora? L'idea è stata, siccome grazie a delle leggi sulla trasparenza, sia per quanto riguarda i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, sia per quanto riguarda i bandi, quindi le gare d'appalto, questi dati vengono pubblicati dai vari ministeri. In conseguenza, abbiamo dei file Excel, in cui sono tutte quante le varie spese, quindi del ministero dell'interno, della difesa, del ministero del sviluppo economico, in cui possiamo trovare pagamenti che sono stati effettuati nei confronti di determinate aziende, la causale, che può essere più o meno chiara nei confronti di cose che è stato venduto, e allo stesso tempo però, quindi da un lato possiamo trovare una lista delle aziende, dall'altro c'è quel bellissimo codice identificativo delle gare d'appalto, che ci permette di risalire al capitolato tecnico, e di risalire anche a tutti i partecipanti alle gare d'appalto. Quindi cosa succede? Tramite i pagamenti possiamo fare delle richieste FOIA, quindi di Freedom Information Access, per avere l'accesso a queste fatture, e possiamo controllare i pagamenti. Dall'altro, prendo il CIG, vedo chi partecipa alla gara, e tiro fuori una lista di altre aziende. Allo stesso modo, siccome partecipano al bando, inviano le proprie offerte tecniche, quindi quale tecnologia offro, cosa posso offrire. E lo stesso, sono accessibili tramite le richieste FOIA, e quindi otteniamo anche le offerte tecniche e economiche. Cosa otteniamo da questo? Questo è un database che ho messo insieme, facendo questo tipo di ricerca, di tutte, tutte per ora, quelle che mi sono saltate fuori, le aziende italiane che in un modo o in un altro partecipano alle gare d'appalto relative a tecnologie di sorveglianza, intercettazione, estrazione di dati da smartphone. Tra queste troviamo aziende note, meno note, rivenditori ufficiali. Ne ho evidenziate quattro, perché sono quelle di cui parlerò brevemente, tranne la 4NS, perché per questione di brevità l'ho tenuta fuori, ma vi dico solamente che è un rivenditore ufficiale di software per l'estrazione di dati forensi degli smartphone. Ha diverse aziende al suo interno, è uno dei vari rivenditori. E c'è anche Telecom Italia. Sarà interessante vedere dopo perché c'è Telecom Italia. Cominciamo. L'Italia ha delle sondi per l'intercettazione del traffico internet sviluppate dall'azienda RCS. Il sito dell'azienda RCS viene, come tutte le varie aziende, offrono una pagina con i prodotti che sviluppano. Tra questo possiamo vedere infatti un centro di monitoraggio per l'evidenziato rosso per il monitoraggio della voce, del traffico internet, Internet Data Probe, che servono quindi queste sonde per l'intercettazione del traffico. Ma vediamo anche delle offerte riguardo degli strumenti tattici, practical tools, che sono quindi degli strumenti più avanzati, in cui si parla addirittura di inserire sistemi come i Trojan, quindi i malware da installare sui smartphone per sottrarre le informazioni, relativi anche alla possibilità di capire comunicazioni criptate riguardo Skype, PGP, quindi la criptografia per email. Ci sono anche altre tecniche, come per esempio i Wi-Fi Catchers, che permettono di acquisire informazioni sulle rete di Wi-Fi. hanno diversi strumenti. Ma queste Internet Probe, quindi queste sonde per l'intercettazione, cosa so in sostanza? Sulla pagina il sito è composta una parte in inglese e una parte in italiano. Nella parte in italiano saltano fuori queste, questo sistema IWS. Ecco, interpretando Internet, sovrigliando la rete, è un sistema di decodifica, di presentazione delle intercettazioni IP. E lì, in basso, sul secondo paragrafo, appare nuovo, per la cattura dati, RCS offre la sonda, che permette quindi di estrarre il traffico dati e poterlo analizzare. Questa sonda è stata sviluppata grazie a un progetto di ricerca con fondi europei, che fa parte del PONREC, in cui notiamo alcune cose singolari. L'ambito di questo progetto viene indicato come beni e attività culturali, che potrebbe essere una pista, non lo sappiamo, la descrizione però è abbastanza auto-evidente. C'è proprio scritto che sono per l'intercezione illegale dei dati sul rete e quindi abbiamo, possiamo intercettare il traffico relativo ad un utente identificato mediante un attacco tramite queste sonde. Il costo totale di questo sviluppo di questa tecnologia sono stati 910 mila euro, di cui ammessi tramite il progetto PONREC, quindi sono dei fondi europei che vengono gestiti grazie al Ministero di questo sviluppo economico. E' stato pagato queste sonde con dei soldi pubblici. Quindi ho cercato di fare una richiesta a fogli per avere accesso ai documenti relativi a questa tecnologia sviluppata, per sapere in concreto come funziona, cosa c'è. Purtroppo l'accesso mi è stato negato, che logicamente il foglia prevede dei limiti, di cui parlerò oggi a un altro talk, quindi se siete interessati a come poter utilizzare il foglia, venite anche a quello. Però, cosa c'è? Le tracce ci sono. Perché? Perché ci sono i pagamenti alla manutenzione a questo sistema di intercettazione. Quindi la polizia paga a RCS una somma per la manutenzione di questi sistemi. Ho trovato i pagamenti che vanno indietro fino al 2013. Ci sono un pagamento annuale per la cifra di oggi intorno a questi 40.000 euro per la manutenzione del sistema di intercettazione. Quindi, ok, abbiamo delle sonde per intercettazione internet utilizzate dalla polizia per le investigazioni bisogna capire come, in che modo, quando. Ma andiamo avanti. Purtroppo vi faccio una carrellata di tutte le tecnologie e poi un po' di domande ce le porriamo alla fine giusto per chiudere. Quest'altra cosa parliamo? Parliamo degli MC Catcher. Gli MC Catcher sono delle finte celle telefoniche che simulano quindi il funzionamento di una cella. Ipotizziamo, noi ci troviamo tutti quanti qui e il nostro cellulare si sta connettendo a una cella telefonica del nostro operatore. Se ci fosse un MC Catcher nella zona il nostro cellulare anziché connettersi alla rete del nostro operatore si aggancia alla cella simulata. Questa cella riesce a raccogliere gli MC che sono appunto questi identificativi dell'utente sulla rete. In questo modo cosa servirebbero gli MC Catcher? per identificare la presenza o meno di un sospetto o indagato quindi per sapere se si trova in una zona o in una determinata zona. CVM Elettronica questa è un'azienda italiana che vende sul sito vediamo che vende principalmente dei jammer che sono delle tecnologie per creare un diservizio alla connessione. Vengono utilizzate per esempio in scenari di guerra per evitare che ordigni attivabili tramite cellulare possano esplodere. in questo modo tu gemmi la rete non perde il contatto e vengono tagliati fuori. Quindi sono effettivamente i jammer sono tecnologie militari che vengono utilizzate in quell'ambito. Però cosa succede? CPM partecipa a un bando di gara della parte di finanza per la vendita di un sistema di MC Catcher. Cosa scopriamo? In altre informazioni si afferma che CPM Elettronica è il rivenditore ufficiale in Italia di sistemi di catcher sviluppati dall'azienda Selxion. Selxion è un'azienda famosa a livello internazionale ed è del Regno Unito vende è famosa appunto perché produce sistemi di MC Catcher e ha fatto delle vendite intorno al milione di sterline solo nel Regno Unito alla polizia metropolitana e nel bando di gara degli MC Catcher partecipa anche Telecom Italia in basso e per questo l'ho inserita perché è interessante la posizione degli operatori telefonici nei confronti delle intercettazioni in Italia ne parlerò di questo anche più avanti ma vediamo cosa fanno non ti permettono gli MC Catcher solamente di identificare se in quella zona c'è il tuo sospetto potresti anche con alcuni modelli intercettare gli sms e le telefonate inoltre cosa può accadere la tecnologia di connessione la tecnologia 4G e 3G è più sicura dal livello crittografico rispetto a quella 2G alcuni modelli di MC Catcher permettono di fare il downgrade quindi in quel caso si finisce a connettersi in 2G e secondo alcune mail in cui che derivano dal database dell'attacco ai danni in team si parla della possibilità di Selxion di inoculare software direttamente sui smartphone quando si trovano in questa modalità di connessione quindi fanno il downgrade e a quel punto ti possono addirittura non solo trovare l'INSI non solo intercettare chiamate sms ma addirittura ingettare codice dentro il tuo smartphone questa qui fa parte del bando della gara di appalto era il capitolato tecnico in cui c'erano appunto le specifiche che venivano richieste cosa volevano e questo era un esempio della mappa in cui tu puoi vedere il percorso che viene compiuto dall'indagato vedi i vari codici insiemei le varie date eccetera cosa succede cosa succede in un altro bando innanzitutto i sistemi di MC catcher al momento secondo quello che sono riuscito a trovare sono in dotazione presso un reparto della guardia di finanza e della polizia quindi ci sono queste due fosse dell'ordine per ora che ho trovato che lo utilizzano cosa succede in uno dei bandi si vede che si fanno un riferimento specifico a dei prodotti quindi leggiamo UGX Optima UGX Penta questi qui sono dei prodotti sviluppati da Selxion presenti su una brochure che è stata allicata online ottenuta da Privacy International che è un'azienda per i diritti digitali del Regno Unito che è riuscito ad ottenere una copia e l'ha caricata online in cui si possono vedere che UGX Optima 1 era un sistema fondamentalmente un MC catcher classico quindi permette MC e mei ma anche intercettazioni sms e telefonate mentre invece l'UGX Penta è una versione mobile diciamo un po' più piccola compatta che riesce a portare dietro in uno zaino che però cosa si scopre che esistono delle nuove versioni perché viene fatto l'upgrade abbiamo l'Optima 2 e l'Optavia 2 di questi non sono riuscito a trovare informazioni perché la brochure risale a diversi anni fa c'erano in discussione degli upgrade dal sistema quindi sarà molto interessante provare a fare un'altra richiesta foglia per vedere se si riesce a ottenere maggiori informazioni su questo tipo di sistema perché questo invece in quel caso era il bando della guardia di finanza e si parlava di Octavia 2 in quest'altro caso è la polizia e allo stesso modo si parla di Octavia 2 in questo caso si parla della tecnologia 4G viene richiesta la fornitura di licenze di utilizzo in un bando e nell'altro lo stesso si parla di RadioCard per far funzionare questo MCH questa qui è un'immagine da brochure che si può trovare online ci sono i link sui vari slide credo che verranno caricati online quindi potete andare a dare un'occhiata e in questa slide effettivamente si vede questo qui è il sistema GX Penta molto più compatto ha la possibilità a destra si vede di prendere i vari codici CMEI TMSI che sarebbe quello temporaneo qui viene attribuito e quindi abbiamo ecco un altro pacchetto la polizia e le guardie di finanza utilizzano anche MCCatcher come per quali scopi in quali modalità ci faremo delle domande successivamente proseguiamo sempre più cupi parliamo adesso di malware di stato chiamati Trojan chiamati spyware o chiamati secondo il testo della legge italiana che è stata introdotta a captatori informatici che non mi piace di questi termini non mi piacciono nessuno di questi se non l'unico che è malware di stato perché fondamentalmente fa quello che fa un malware l'antivirus dovrebbe riconoscerlo come malware perché esistono malware che sfiltrano dati sottraggono dati le nostre chat log eccetera dunque cosa succede perché parlavo prima degli operatori telefonici perché in Italia la situazione è la seguente gli operatori telefonici sono dei concessionari pubblici quindi utilizzano l'infrastruttura in concessione da questa cosa deriva che hanno degli obblighi devono compiere delle prestazioni obbligatorie a fine giustizia essendo concessionari se la polizia giudiziaria sottomandato viene a fare una richiesta a te operatore tu devi necessariamente seguire quanto richiesto e per questo vieni compensato quindi cosa c'è? c'è un listino in cui vengono dettagliate tutte quante tutte quante qui ci sono un po' di dubbi qui ho messo solamente una parte del listino all'inizio del listino ci sono informazioni riguardo le intercettazioni del testo degli sms delle telefonate che vengono pagate ci sono 15 euro circa ci sono anche altre come esempio fornire tutti quanti i metadati delle telefonate fornire lo storico fornire altre informazioni e poi finiamo in zone un po' più vaghe per esempio ogni attività che necessiti di assistenza sono dettagliate alcune però il problema è che per esempio assistenza e studi di fattibilità in cosa si trasforma e soprattutto questo listino prezzi questa è una cosa che è ancora non chiara quindi se c'è qualcuno che è informato che sa che se dico errori o cose del genere apertissimo a parlarne dopo o anche durante perché cosa succede devono seguire solamente quanto scritto nel listino prezzi come se fosse un menù di ristorante quindi posso fare questo questo oppure ci sono altre cose che si possono fare da una relazione fatta da un dipendente di Wind al Copasi che è l'organo di monitoraggio sui servizi segreti italiani cosa è salto fuori che per quanto riguarda le intercettazioni e l'inoculazione dei captatori informatici questo dipendente da Wind afferma quanto è portato nella relazione che sarebbe gli operatori telecomunicazione intervengono a collario per consentire a chi è autorizzato di espletare le operazioni di inoculazione nel software queste operazioni consistono nell'ampliamento della banda e l'ampliamento della banda è effettivamente riportato nell'estino dei prezzi quindi cosa succede logicamente il captatore il malware deve sfilare i dati deve mandarli via se lo fa utilizzando la tua offerta dati ti accorgi che qualcosa non va ti sta scalando i dati ma tu non lo stai utilizzando c'è qualcosa sotto quindi c'è l'ampliamento della banda dei dati anche l'ampliamento della banda stessa per poterti inserire più per scaricare più materiale poi però c'è anche il preoccupante l'invio di messaggi per richiedere determinate attività di manutenzione cosa sembra questo siccome si parla di attività di corollario all'inoculazione dei malware e si parla di sms quello che sembrerebbe è che vengono mandati dei falsi sms di manutenzione da parte del gestore nei quali presenta un link che rimanda o meno a siti dai quali puoi praticamente discarichi direttamente il malware sul tuo dispositivo problema questa richiesta questa specifica richiesta non è presente nel listino non è scritta così non c'è non ne ho trovate qui però l'informazione che ho raccolto è che è molto plausibile visto che comunque è una prestazione obbligatoria che ti viene richiesta potrebbe avvenire sottolineo dietro dietro mandato comunque quindi si parla sempre di investigazioni in corso però ecco la domanda è è forse troppo in là stringere un operatore telefonico a mandarti un sms dal quale scaricare un malware questa è una domanda che lascio aperta su cui possiamo riflettere ci sono stati dei casi questo qui era emerso dai ricercatori del centro casperschi in cui c'era questo software sky go free mi sembra era stata fuori la notizia novembre scorso o forse era più recente quest'anno non ricordo bene in cui hanno trovato però era subito dopo l'introduzione della legge sui captatori in Italia cosa fa questa legge sui captatori in Italia è anche un modo cruciale promette di riferare sull'utilizzo e l'impiego dei captatori ma in realtà si riduce a parlare di una piccolissima nicchia di attività che possono fare i captatori ossia parlano solamente dell'attivazione del microfono in remoto per registrare le conversazioni ambientali quindi è come se stiamo parlando in questa stanza pensano che ci possa essere un'attività illegale o illecito col mandato attivano il microfono di qualcuno di noi registrano e basta ma il malware non fa so questo il malware prende le fotografie può fare screenshot del nostro cellulare mentre stiamo scrivendo messaggi e quindi se faccio uno screenshot mi stai scrivendo su whatsapp addio quindi la legge sui captatori è mioping sotto questo punto di vista in malafede effettivamente non avevano pensato non lo sappiamo però in questo caso cosa era successo c'era questo software skygo free che si presentava con delle pagine simili a quelle degli operatori telefonici non sto dicendo che stanno collegati però sto dicendo che questa idea di mascherarsi dietro un operatore telefonico è in giro è successo ci stanno queste pagine questo software skygo free faceva una cosa molto interessante aveva una capacità che si chiamava di geo fencing per cui date determinate coordinate gps era in grado di attivare il remoto il microfono perfetta gli standard della legge sui captatori c'è stato questo match a chi è stato attribuito questo software secondo alcuni giornalisti all'azienda neg che è un'azienda italiana perché sembra che siano state lasciate dietro alcune tracce ma non è stato confermato del tutto però ci sono ci sono delle cose che fanno pensare che possa avvenire che venga richiesto a un operatore telefonico di inviare un sms per farlo installare proseguiamo social media tutti pubblichiamo online sui nostri social i social sono diventati una fonte per le investigazioni da parte delle forze dell'ordine sono quindi dati pubblici che è possibile accedere in vario modo in che modo però hanno deciso uno dei modi in cui hanno deciso di accedere ai nostri dati pubblici hanno indetumbando e acquistato un sistema per il riconoscimento vocale questo qui si chiama il progetto crime in questo progetto cosa vogliono fare fondamentalmente vogliono raccogliere tutte quante le fonti pubbliche di audio quindi sia radio tv ma anche video presenti in social media quindi in questo caso c'è il media monitoring che è una parte centrale di questo progetto crime che fondamentalmente consiste nel fare scraping di audio e video online estrapolare la laccia audio fare una impronta vocale estrarre un'impronta vocale da quell'audio e includerla in un database di impronte vocali quindi per fare un attimo il quadro e capire di cosa stiamo parlando hanno messo in piedi un sistema per il monitorato contro attività terroristiche in questo caso nel bando è esplicitamente scritto ma ci sono comunque secondo me delle discussioni a fare su cosa riteniamo terrorismo e cosa non fino a che livello viene utilizzata questa tecnologia per monitorare sui social media viene presa la nostra impronta vocale che è unica e viene messo su un database ho fatto una richiesta a foglia per sapere sapevo già che aveva partecipato ho fatto una richiesta per chi era capitolato l'offerta tecnica per sapere cosa era stato offerto di prodotto l'azienda che ha vinto è l'azienda Alma Wave è interessante perché questa azienda non vende probabilmente tecnologie di sorveglianza vende questo sistema fondamentalmente per i call center i call center cosa vogliono fare vogliono sapere come il grado di soddisfazione dell'utente che chiama qui durante le telefonate con il call center in questo modo col sistema di riconoscimento vocale riescono a dire era soddisfatto meno commentato eccetera eccetera quindi cos'è successo un'azienda che si dedica specialmente al lato commerciale classico ha cambiato scopo si è trovato un bando che matchava perfettamente quando era in grado di offrire e si è trovato a partecipare al bando e vince ho richiesto il capitolo di tecnici scusate le offerte tecniche di quante aziende che hanno partecipato purtroppo l'azienda si è opposta e questo infatti è un diritto nel foglio quando fai queste richieste se vengono individuati dei controinteressati e quindi dei soggetti i quali sono direttamente collegati alle informazioni che tu stai richiedendo hanno il diritto di essere notificati e di comunicare entro dieci giorni se vogliono concedere l'accesso oppure no motivandolo in questo caso per proteggere il proprietario del cliente attuale hanno negato l'accesso altre aziende però o l'hanno concesso o non hanno risposto entro i limiti di tempo di dieci giorni e quindi tra queste c'è VitroCiset un'altra azienda che vengono tecnici di sollevianza abbiamo di nuovo RCS partecipava anche Telecom Italia e qui sono alcuni esempi estraggo qui qui sono dal capitolato dall'offerta tecnica di VitroCiset una slide giusto per far vedere quante fonti social aperte ci sono e quali estrarre audio e troviamo un po' di tutto c'è Boeing Yahoo Flickr i classici social media c'è Amazon Tord YouTube c'è molta roba quindi ecco c'è questo tipo di raccolta di informazioni rientra in quello che è così chiamata come Suck Mint social media intelligence è un altro modo per definirla nel dettaglio guardando le offerte tecniche delle altre aziende in molto ho ritrovato la vendita dell'algoritmo offerto da Nuance Nuance è un'azienda leader sostanzialmente nel settore del riconoscimento vocale a diverse tecnologie abbiamo qui questo Nuance identifier che permette quindi di identificare con l'impronta vocale il soggetto e tra i vari Deplian che avevano presenti online troviamo affermano che dal 2015 hanno introdotto questo neural network quindi questa intelligenza artificiale che ha migliorato ancora di più il loro sistema arriviamo a un altro tipo di tecnologia che colpisce molto più probabilmente in questi tempi che è il riconoscimento facciale l'Italia si è munita di un sistema di riconoscimento facciale questo progetto si chiama SARI questa qui è una slide atta dal capitolo tecnico in cui si vede un po' l'infrastruttura del sistema cosa abbiamo è importante sulla destra ACIS quello è il database delle foto segnaletiche che è in dotazione presso le polizie quindi ci sono foto e nome e cognome delle varie persone cosa succede questo database viene aggiornato in temporale con un server specifico di dati nel progetto SARI ci sono in basso diversi engine quindi questi sono diversi algoritmi di riconoscimento facciale che possono essere utilizzati e fondamentalmente poi di là abbiamo un'interfaccia da cui le varie forze dell'ordine possono chiedere le informazioni esistono due tipi di questo sistema di riconoscimento facciale uno è il cosiddetto statico statico nel senso che fornisci un'immagine intera del database e ti esce una lista di volti che possono essere simili a quello che tu stai cercando e quindi tu fornisci un'immagine statica l'altro invece è un sistema real time nel senso che è accoppiato con 10 videocamere da poter utilizzare durante le manifestazioni pubbliche problema in questo bando la differenza del bando di prima sul riconoscimento vocale non si menziona per niente il fatto del terrorismo nel senso che si dice chiaramente le S10 telecamere potrebbero essere utilizzate anche nei casi di manifestazioni pubbliche tranquillamente così come viene percepito lato polizia effettivamente se noi pensiamo al sistema statico è effettivamente un upgrade del sistema in uso precedentemente precedentemente loro semplicemente da quel che ho capito inserivano delle richieste scrivendo quindi uomo bianco età eccetera e usciva l'immagine in questo modo cosa succede anziché mettere la descrizione manuale fornisce una foto nel caso però di utilizzare un sistema in real time con 10 videocamere in luoghi pubblici secondo me si sta parlando di una cosa leggermente differente qui ci sono un po' delle specifiche la gestione del database quello in altro il sistema enterprise è quello che definisco statico deve gestire un database di 10 milioni di immagini mentre invece quello real time ha una watch list ridotta a 10 mila poi ci sono anche altre specifiche se volete cercare nel capitolo tecnico tutti quanti i link posso fornirvi tutto cosa succede l'azienda che si è giudicato il bando è la Parsec 3.26 è un'azienda che collabora anche con il CNR giù in Puglia sul suo sito ha ammesso ha semplicemente no non ha ammesso ha semplicemente comunicato che la fase di collaudo è finita con successo e quindi il sistema Sari dovrebbe essere attivo ho fatto nel frattempo la richiesta a foglia per sapere l'offerta tecnica di questa azienda e sono riuscito a sapere quali sono gli algoritmi utilizzati alcune parti dell'offerta tecnica sono state oscurate perché hanno avanzato delle dinieghi per proprietà intellettuale ma le forze dell'ordine comunque mi hanno voluto fornire altri dati e fortunatamente nell'indice c'erano scritti gli algoritmi altrimenti non l'avrei saputi e abbiamo due engine uno fornito dalla Neurotechnology che è un'azienda fra i leader diciamo mondiali che offre un sistema di riconoscimento facciale e poi abbiamo un altro un engine alternativo reco ne parliamo un po' di entrambi quello della Neurotechnology qui ho preso semplicemente una sola statistica e in realtà nel bando fanno riferimento al NIST che è il centro di ricerca americano che diciamo fa questi benchmark di diverse tecnologie in questo caso hanno fatto un benchmark dei vari algoritmi di riconoscimento facciale disponibili quindi tutte le aziende cercavano di fare dei test sui database offrendo dei dati statistici su curasi i falsi positivi eccetera eccetera quindi si può andare a vedere che per esempio in questo caso su Rituale Accurasi la Neurotechnology si posiziona proprio benissimo però vi giuro il documento è molto più ampio e ribadisco se qualcuno è interessato possiamo veramente metterci giù parlare e vedere un po' quali problematiche ci sono con questo algoritmo di riconoscimento ociale per quanto riguarda invece l'algoritmo di reco è presente sull'offerta tecnica e qui c'è proprio un esempio di come funziona fondamentalmente questo key è per l'interfaccia mobile quindi carichi l'immagine sul tablet o un dispositivo ti esce fuori una lista delle immagini simili che potrebbero essere i vari indiziati perché non ne viene proposta solo una mi è proposto un match un po' più ampio con diverse immagini e a quel punto c'è comunque l'intervento umano nella selezione esiste effettivamente il record 3.26 questo qui era un algoritmo l'algoritmo record proprietario sviluppato da alcuni ricercatori dipendenti che sono in entrambe le aziende perché vedete il record 3.26 già potrebbe sembrare un ottimo collegamento tra le aziende ci sono effettivamente dipendenti che lavoravano insieme e hanno sviluppato questa opzione questa qui infatti è un algoritmo mobile in cui fai la foto c'è un pre-processing e stai le feature c'è la possibilità di notificare l'alert perché ovviamente nel caso di sistemi real-time abbiamo un flusso costante di persone e ci serve un alert quando individuiamo quello della one list io ho inviato una richiesta a foglia perché ho visto che c'era il collaudo fatto allora ho chiesto voglio sapere data di inizio di fine del collaudo esito effettivo del collaudo ma voglio sapere anche falsi positivi falsi negativi come effettivamente funziona questo strumento mi hanno risposto mi hanno risposto dicendo che la fase di collaudo è stata superata non ci sono a disposizione numeri statistiche falsi positivi falsi negativi perché il sistema al momento non è in funzione il problema però qual è ho dovuto fare un'altra richiesta per capire come si è svolto questo collaudo perché è stato semplicemente un collaudo per vedere se l'interfaccia con il database AFIS funziona o hanno effettivamente provato a fare match possibile che non ci sono delle statistiche sui falsi come si è svolto questo collaudo ora sono ancora in attesa di informazioni riguardo questo perché ho dovuto rifare un'altra foglia perché ho chiesto i falsi positivi perché recentemente c'è stato il caso famoso della polizia South Wales per cui c'è un rate del 93% di falsi positivi hanno utilizzato la tecnologia di riconoscimento facciale all'interno di uno stadio e i risultati sono drammaticamente schifosi quindi però questo secondo me non dovrebbe illuderci di segnalarlo solo come un problema tecnologico nel senso ok bon aumentiamo l'accuratezza del sistema 93% falsi positivi lo portiamo a un numero accettabile ok possiamo utilizzare il riconoscimento facciale secondo me ci sono delle riflessioni e domande che a livello di società dovremmo porci e discutere su questi sistemi prima ancora che vengono messi in dettumbando vengono acquistati e vengono messi in azione rifiutiamo perché abbiamo fatto tutta questa carrellata di varie tecnologie quindi abbiamo sono delle intercettazioni di internet abbiamo gli MC che permettono di localizzare degli individui ma anche di intercettare telefonate sms e molto probabilmente nelle versioni più recenti di inoculare il codice abbiamo gli operatori telefonici che sono costretti obbligati a assegurare le richieste dietro mandato delle forze dell'ordine e fra queste richieste non è chiaro se rientrano anche gli sms abbiamo poi sistemi ad intelligenza artificiale che prendono impronte vocali e impronte del nostro viso perché poi fondamentalmente il riconoscimento facciale fa quello estrae una sorta di impronta pattern del nostro viso che a quel punto è unica e lo matcha contro altre quali domande abbiamo sui sistemi di intercettazione tramite sonde in che modo vengono utilizzati quante intercettazioni delle mandi vengono fatte come funziona perché recentemente c'è stato il caso emerso da un articolo di The Intercept in cui l'NSA collaborava a stretto contatto con il TIT un operatore mobile americano in cui nei siti di scambio di dati sonde pubblicavano il traffico e si prendono attorno il traffico però qui finiva anche il traffico di Telecom Italia perché sappiamo quando si guicciano il traffico di dati il nostro traffico di dati può finire anche negli Stati Uniti quindi in Italia come è questa situazione queste sonde come vengono utilizzate quanto in quali casi gli MC Gatcher in Italia ora di nuovo se sbaglio se è cambiato qualcosa per la localizzazione geolocalizzazione e seguire gli indiziati non è necessariamente richiesto un mandato a questo punto gli MC Gatcher fondamentalmente ti fanno geolocalizzazione ma non solo quello e inoltre gli MC Gatcher creano un servizio a rete in alcuni casi in alcuni casi pur essendo una cella telefonica finita riescono a far passare lo stesso il traffico e quindi tu non ti rendi conto di essere sconnesso e non poter fare le chiamate però in alcune dichiarazioni di agenti americani era sorto questo dubbio che in alcuni casi delle chiamate di emergenza non erano partite è perché è riconnesso alla cella che in realtà era un MC Gatcher quindi non fa la cella telefonica e inoltre questo qui gli MC Gatcher sono a strascico nel senso che fosse presente qui ci colleghiamo tutti c'è uno scan degli MC vedono tutti quanti poi logico che agganciano solo quello interessato però tutti finiamo dentro l'analisi degli MC poi sulle prestazioni obbligatorie di giustizia qui il dibattito è molto aperto cioè fino a che punto ci possiamo spingere quel listino prezzi fa fede è solamente quello che è incluso nell'istino prezzi possiamo ridiscutere l'istino prezzi ci sono legittimo siamo arrivati veramente al punto per cui l'SMS dell'operatore può nascondere un malware queste sono domande aperte che lancio per una discussione domande questo c'è ragione sì il problema è che dovremmo beccarli in wild e vedere se come funzionano sì però ecco però il problema è che sono stato comunque in una relazione ufficiale al Copasir da Wind c'è il sentore che ci possa possibili esserci e poi l'ultimo le conseguenze sui nostri comportamenti se noi sappiamo che qualunque audio qualunque video su cui noi siamo finiti caricati online potrebbe potenzialmente essere analizzato estratto la nostra impronta vocale che finisce su un base e allo stesso modo il nostro diritto di manifestare pubblicamente contro il governo o altri nostri diritti in che modo viene leso se ne sappiamo che tramite questo tipo di sorveglianza silenziosa perché fondamentalmente se noi vogliamo tradurlo cos'è il riconoscimento facciale è come se all'ingresso di una piazza ci venisse presa l'impronta digitale sarebbe la stessa identica cosa vorremmo l'ingresso in piazza che la nostra impronta digitale venisse presa a la nostra insomma si as as Grazie a tutti.